Le ader, torno a lì, e dei lubrification, check delle lubrification, ok? Io, con po' sisto, ok? Torno a lubrification, torno a lì ader, e torno a lì ader. Ah, sì, sì, se la scena come fa, torno a lì ader. Per commenta, per rinforzare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.